Allora ragazzi, inizio oggi questo video dicendo che ringrazio la community con Square perché mi dà veramente tanti feedback e riesco a percepire tanto sulla situazione e come ci troviamo in alcune situazioni a momenti e quindi riesco a capire quali sono comunque gli argomenti e le cose che bisogna trattare perché c'è magari maggiore incertezza o comunque è un argomento, un topic da dover trattare. Inizio con questa schermata qui, che cosa sta succedendo? Sta succedendo in pratica che oggi è effettivamente il day one ufficiale per la mainnet di EOS, ci siamo finalmente, la mainnet EOS è stata lanciata. Perché ho fatto l'introduzione sulla community? Perché ho letto comunque che c'era molta molta, quasi anche dovuto a una condizione di mercato particolare in questo periodo, quasi nervosismo sul fatto che comunque questo voting non avveniva. Però ragazzi, si sapeva che sarebbe stato così, si sapeva che ci sarebbe volute qualche ore o qualche giorno, era stato scritto dall'inizio. Effettivamente, che cosa vuol dire questa questione del voting? Ne ho già parlato quando feci il video su come erano strutturati i vari passi prima del lancio, non è un lancio che avveniva in un unico momento, ma c'erano diversi passi a dover fare, adesso li andiamo a rivedere ma molto velocemente. Quello che è successo è che il minimo richiesto per effettivamente avere il lancio ufficiale della blockchain e quindi l'inizio delle transazioni e le varie convalide dei vari, quindi la risoluzione dei vari blocchi e la convalida delle varie transazioni al loro interno, è potuto avvenire con il 15% di tutto il totale massimale dei EOS che hanno votato per i vari nodi di convalida o per i vari block producers. Siamo effettivamente adesso arrivati al 17%, vediamo qui che abbiamo 172 milioni di EOS che sono stati appunto utilizzati per il voto. Non ho coperto in modo particolare a cosa veramente serve questo voto, ve lo dico in maniera molto semplice e poi se volete approfondite ovviamente. Bisogna votare quei nodi, quei block producer appunto, quei accumulatori di EOS, in questo caso sono diventati coin, che andranno a risolvere i vari blocchi al cui interno si trovano le transazioni che avvengono sulla blockchain. Perché c'è un sistema di votazione? Perché appunto facendole un modo diciamo democratico si avrà una differenziazione di nodi e avremo una lista, quella che è una lista eccola qui, dei vari nodi che sono stati appunto approvati. Il più grande di tutti al momento, quello che ha ricevuto più voti di tutti è EOSCanada.com che ha il 3.52%. Comunque la distribuzione è abbastanza buona, non c'è un nodo che ha accumulato grandissime percentuali anche se 3.52% è tanto, insomma questa è la distribuzione. Questo è un tool, vi lascerò tutti i tool in descrizione perché la community, la cosa bella di vedere su EOS è che la community è cresciuta in modo velocissimo. Anche se è un anno comunque di ICO abbiamo già tanti tool, cosa che per esempio per Ethereum in fase iniziale non è stata assolutamente così. Questa è comunque una blockchain che è nata in un periodo più maturo e i tool e la community si è sviluppata in un modo molto più veloce. Quindi ad esempio abbiamo questo tool per vedere i blocchi che vengono prodotti, abbiamo la lista dei vari nodi e block producer che sono stati votati. Tornando a noi, questo è cosa serviva questo voting, vi dico che ancora è possibile fare del voting, non vi ho spiegato, non ho fatto un video su come si vota effettivamente. Se siete interessati lasciatemi un commento, se vedo che comunque l'interesse è alto, che ricevo parecchi commenti su come, cioè l'interesse su come fare, continuare a votare i vari nodi, allora magari me ne occuperò su un video specifico. Per ora vado avanti perché devo dare delle informazioni che ritengo fondamentali in questa fase. Qui intanto vi faccio vedere l'EOS countdown che è un altro tool che vi ho fatto vedere spesso, siamo arrivati al mainnet activated, quindi la fase è finita, il lancio è terminato, l'ho seguita con voi no? Questo countdown e appunto è stato anche annunciato appunto da EOS Canada, che è il nodo più grande, ci fa vedere quella che è stata la timeline con tutto, i primi rilasci, tutto ciò che è avvenuto, andatevi a vedere, vi lascio anche questo link. Siamo arrivati qui, current stage, 15% è stato votato, quindi la mainnet è ufficialmente lanciata. Che cosa vuol dire che la mainnet è stata lanciata? Vuol dire che EOS adesso esiste come blockchain, quindi è tutto funzionante, si possono fare transazioni, c'è uno staking attivo e soprattutto si possono cominciare a lanciare le prime dApps, le prime decentralized application su mainnet EOS. Quindi adesso lo sviluppo vero e proprio comincerà ad avere effetto. Abbiamo visto uno piccolo rialzo anche sul prezzo, questo è normale perché appunto questa fase è terminata con successo. Non c'è un rialzo esagerato, anche perché parte del rialzo è anche dovuta al fatto, in un'inizio a parte, che la SEC ha dichiarato che Ethereum non può essere considerato come un security token, e quindi anche quello ha riportato il mercato ad essere positivo e EOS ne ha beneficiato. Ma soprattutto, tornando a EOS nello specifico, EOS è adesso una blockchain funzionante. Però ovviamente in questa fase qui, che ancora, considerate questo il day one, il primo giorno in assoluto, quindi ancora non c'è un'informazione e un utilizzo vero e proprio. Anche perché le transazioni adesso non stanno più avvenendo con quei token che voi avete, ad esempio, se avete dei token su Binance. Perché appunto, perché li chiamo token? Perché sia i token che abbiamo acquistato finora in fase di ICO, lo ripeto ancora una volta questo concetto, sono appunto dei token ERC20 su una blockchain Ethereum che non ci interessa più. Quelli non hanno più valore, non servono più a niente. Una volta che noi l'abbiamo registrati, e vi ricordate in quella fase in cui registravamo, in cui vi ho fatto vedere che nella fase di registrazione in quei passaggi ricevevamo una chiave pubblica per blockchain EOS e una chiave privata. Quella chiave privata lì, vediamo se ritrovo un attimo quella parte del video, la memoria visiva è sempre più d'aiuto. Questo è il video che feci, e quando, questo è un esempio ovviamente, quando registravate, qui è l'esempio con MyEtherWallet, ricevate a un certo punto, avevate generato delle EOS keys con chiave pubblica e chiave privata. Ecco, questo è il vostro indirizzo, questo è dove adesso avete i vostri EOS coin. I token che avevate su MyEtherWallet, quindi sull'Edger, su Binance stesso, sono token che non hanno più valore, non servono più a nulla, hanno finito il loro compito. I token e i coin che adesso si sono trasformati dopo la registrazione, sono già presenti e funzionanti sulla mainnet. Come potete verificare se effettivamente il vostro account è stato caricato con quegli ex token convertiti in nuovi EOS? Ci sono diversi tool, ve ne posso lasciare uno, si chiama EOSFlare.io, questo è un account che non è il mio, è un account ad esempio. Qui voi avete la possibilità di inserire l'account, quindi una volta che lo andate a vedere, la public key o la transaction. Quello che vi suggerisco di fare è andare in quella schermata che vi ho fatto vedere prima, prendere la vostra public key. Attenzione, mi ripeto ancora una volta, la private key deve rimanere sicura e non deve mai andare da nessuna parte. Usate la private key solo se state veramente, veramente capendo perché la state usando. E vi spiego quale può essere un caso d'uso, ma la private key non la dovete far vedere a nessuna, è solo vostra. La public key invece, che è l'indirizzo pubblico, questa è una cosa fondamentale, la potete inserire qui tranquillamente. Una volta inserita voi andrete a vedere qui, avete per esempio 50 EOS token, quella public key ricevuta, l'andate a inserire in questa parte qui e andate a vedere che i 50 EOS sono a quel punto mostrati in questo tool qui. Quindi sono su mainnet, ne vedrete in particolare 40 staked e 10 unstaked. Perché vedrete qui una transazione che vi dirà che 10 sono stati utilizzati per inizializzare il vostro account EOS. È una cosa che funziona in questo modo qui. Poi dettagli futuri, se questi 10 potranno essere anche messi staked o no, dobbiamo ancora vedere bene. Considerate che è il day one, adesso qui vedete a zero, una volta che avete trovato il vostro account, vedete qual è il vostro account name e potete tranquillamente salvare quello che è questa URL tra i vostri preferiti, così ogni volta invece di ricercare per la chiave privata, cercate direttamente per il vostro account name. Questo è quello che vi interessa. Ripeto ancora una volta, i token che sono sul vostro MyEtherWallet, i token che sono sul vostro Ledger, i token che sono su Binance non servono più a niente. Appunto Binance, adesso che cosa succede con quei token su Binance? Quelli che sono ancora in trading e che possono essere venduti, possono essere comprati, sono appunto ancora ERC20. Noi stiamo ancora comprando quei token lì. Però effettivamente Binance dovrà avere un processo. Se fate caso non siete in grado adesso di poterli prelevare. Perché? Perché non ha comunque senso. Perché il wallet EOS ancora non è stato impostato su Binance. Quindi faccio questa introduzione. L'exchange e i wallet. Stanno uscendo diversi wallet sui quali potete effettivamente avere i vostri EOS. Ne stanno costruendo tanti. La community ne sta preparando diversi. Ce ne sono già alcuni. Non vi dico i nomi. Perché? Perché ancora io personalmente non li ho testati. Quindi non mi sento di consigliare alcun nome. E quindi io che cosa farò? Terrò tutto su mainnet in questo modo qui. La mia chiave privata l'ho salvata in modo sicuro. Quindi so che i miei asset sono al sicuro. Quella parte o anche una piccola parte su Binance. Anche lì li lascio così. Anche perché avverranno. Dovevamo aspettare ancora dei giorni. Probabilmente due tre giorni. Tre giorni molto probabilmente. Prima che quei token vengano portati su un wallet effettivamente EOS. Non so quale Binance poi andrà a decidere. In quel momento lì noi avremo wallet che non sarà più di token RC20. I token RC20 probabilmente verranno tolti direttamente da Binance. E inizierà il trading su quelli che sono i veri coin. I veri EOS. Su wallet che verranno impostati da Binance su EOS. In quel momento possiamo prelevare e depositare. Detto questo. Quale wallet utilizzare? Al momento io mi sento di dirvi quello che sto facendo io. Cioè io ovviamente prendete. Io vi racconto come faccio le cose. Poi vedete voi sicuramente magari. Cioè chi fa le cose in modo migliore. Io sto facendo così. Aspetto. Aspetto che esca un wallet. Non dico ufficiale. Ma che sia supportato da tanti. Che la community reputi sicuro. Che sia efficiente. E nel momento in cui ne usciranno. In questi giorni. Ma vi parlo di massimo una o due settimane. Dei bei wallet. A quel punto. Se decidiamo di avere il nostro wallet. E ci piace. Magari con un supporto per rileggere. Non so. Sicuramente non avverrà breve questo. Sull'hard wallet. Però. Quando ci piace il nostro wallet. A quel punto. Che facciamo. Andiamo a. Solo in quel momento. Quando siamo sicuri. Che è tutto sicuro. Che troviamo delle guide. Possiamo importare. I nostri asset. I nostri EOS coin. Utilizzando la chiave privata. Su quel wallet. Che abbiamo deciso. E in quel momento. Probabilmente. Anche quel wallet. Ci darà delle possibilità. Per ad esempio. Il voting. Ad esempio. Lo staking. Decidere dove mettere. In staking. I nostri EOS. Su quale nodo. E tutte queste operazioni. Qui oltre che ricevere. E inviare. Dei coin. Delle criptovalute. Dei EOS. Questo è quello. Che dovete sapere. In questo momento. Ho detto queste cose. Nel modo più semplice. E più facile. In cui potevo dirle. Se non vi è chiara. Però. La distinzione. Tra token. E RC20. E EOS coin. E il perché. I token. Che avevamo. Su Myether wallet. Non servono più a niente. Vi consiglio. Di capire. Che cosa vuol dire. Qual è la distinzione. Tra un coin. Una moneta. Con blockchain. E un token. Costruito. Su un'altra blockchain. Ad esempio. In questo caso. Ethereum. Questa è una cosa importante. Ho fatto un video. Lo linkerò. In ogni caso. Questo è uno step principale. Perché vi dico. Qui voglio essere. Un pochino rigido. Perché. Se non capite. Questo concetto. Non è il caso. Di investire. In cose come queste. EOS. E queste tecnologie. Sono tecnologie. Comunque. Che richiedono. Una certa preparazione. Un minimo. Un minimo di conoscenza. Altrimenti. Si rischia. Di perdere. Comunque. I soldi. È un'operazione. Sono operazioni. Rischiose. Per chi non sa. Cosa sta facendo. Qui. Mi sento di essere rigido. Perché. Ad esempio. Adesso. In questo momento. Chi ha la fretta. E scarica. Il wallet. Sbagliato. Importa. La chiave privata. In questo wallet. Rischia. Di perdere tutto. Quindi. Io. Prenderei la cosa. Veramente. Con le pinze. Ripeto una cosa. Cioè. Lo sto ripetendo più volte. Mi raccomando. Questo è importante. Ultimo aspetto. Con cui chiudo. Sicuramente. Se siete tutti interessati. L'aspetto. Che riguarda. I. Gli airdrop. Gli airdrop. Avverranno. Non vi preoccupate. Non dovete. Stressarvi. Adesso. Magari appunto. Forzare. La ricerca del wallet. Proprio perché. Volete ricevere. Subito gli airdrop. Per due motivi. Il primo perché. Comunque sia. Riceverete i vostri airdrop. Sui account. Che sono registrati. Sulla mainnet. Quindi. Li riceverete. Comunque. Sono. Avverranno tutti. Collegati al vostro. Public address. Avete la vostra chiave privata. Quindi gli airdrop. Li avete. Fretta di poterne fare. Subito beneficio. Vendere. O comunque. Tradare. O quello che volete. Non ce n'è. Perché al momento. Nessun exchange. Supporta. Dei token. Ios. Sì. Ho detto bene. Token. Ios. Perché. Ios. Adesso. È una blockchain. Gli airdrop. Saranno. Dei token. Poggiati. Sulla blockchain. Ios. Non c'è nessun exchange. Al momento. Che fa queste operazioni. Quindi. Ci vorrà tempo. Riceverete dei token. Che hanno un valore. Nullo. Non c'è neanche motivo. E fretta. Di fare. Un rushing. Su questa situazione. Nel tempo. Sapremo di più. Di come gestire. Tutte queste cose. Sapremo più informazioni. Sapremo meglio. Come funziona lo staking. Sapremo. Quali sono i wallet affidabili. Gli exchange. Che supportano. Determiati token. Come funziona. L'aspetto dei token. La community. Svilupperà. Ulteriori tool. Oltre a quelli. Che vi sto facendo vedere. Per gestire. Tutte queste situazioni qui. Mi raccomando. Penso di aver detto. Più o meno tutto. E. Vi aggiornerò. Quando c'è qualcosa di importante. Ultimamente. Ho parlato spesso. Nei video di Ios. Perché questo. È comunque un momento storico. Si è lanciata. Una delle blockchain. Più importanti. Della storia. Delle cryptocurrency. Questo. È un dato di fatto. Quindi ho coperto. I diversi aspetti. Fino alla fine lancio. Oggi è il day one. Godiamoci questa giornata. Perché rimarrà. Nella storia. Delle criptomonede. Forse chi lo sa. Nella storia. Della economia mondiale. Chi può saperlo. Vi ringrazio. E ci vediamo. Al prossimo aggiornamento. Ciao a tutti.